Vabbè, tu un po' più avanti, però mi fa piacere di trovarci in questa posizione di classifica. Eh sì, insomma, poi io ho anche gli amici di infanzia che mi hanno già scritto, beh, ma insomma, ce lo contendiamo come gli anni Ottanta, e io ho risposto sì, solo che gli anni Ottanta avevamo sostanzialmente la sfida nella sfida Maradona contro Gullit. Adesso, non so, Mario Rui contro Calabria? Non è forse la stessa cosa. Vabbè, diciamo Ibrahimović contro Mertens, per rendere il tutto un po' più poetico. Eh certo, due giocatori che non giocano praticamente, perché per vari motivi, tra infortuni e magari anche, diciamo, livello di anzianità, anche perché Mertens, insomma, ha superato i 30 da un pezzo, o no? Eh sì, a voglia, lui però è un pezzo di Napoli, considera che qua lo chiamiamo Ciro perché l'abbiamo proprio ribattezzato. Ormai è stato da un sacco di anni da noi, tra l'altro è un grande amante della città e quindi è entrato in grande empatia con tutta, diciamo, la tifuseria. Riccardo, peraltro sappiamo che sta studiando il ballo famoso che Mertens ha fatto diventare virale, ma non ti chiediamo di farcelo vedere. Guarda, lo faremo per una puntata speciale, insomma, in studio, io, tu e Pietro. Quando ci ospiterai tutti e due in studio, guarda, verremo preparati. Va bene, aggiudicato, aggiudicato. Va bene, come sempre, insomma, quando ci sono Pietro e Riccardo ci piace scherzare. Partiamo allora con la distribuzione del mercato. Una settimana all'insegna di nuovi acquisti e di nuovi massimi in più occasioni, anche per quanto era del Fuzzimil, che ha superato, insomma, ieri 27.000, lo sappiamo. E allora, dal punto di vista dei certificati e della distribuzione, com'è andata? Riccardo, a te la parola. Sì, allora, ti devo confidare un piccolo segreto, un aneddoto. È la prima volta che vedo i 27.000 punti in vita mia. Quando aveva toccato i 27.000 punti, io non avevo ancora iniziato ad operare nel mondo, insomma, dei mercati. Pietro invece è telegrafico? Vabbè, Pietro è vecchio, quindi, insomma. Che mettere questo di te nella piaga? Hai visto anche 40.000. La voglia, no, ho visto anche i 50.000 in verità, perché il 2008 è l'ultima volta che ho prezzato il 27.000. Io considero già come ho iniziato, io sono il 76, ho iniziato tipo a 20 anni, dai bozzini alle banche, quindi ne ho viste varie. Però, insomma, fa piacere di tornare quasi, che sono, 16 anni indietro. 13 anni, 13 anni. 13 anni. Riccardo, ti ho interrotto, perdonami. No, figurati, ci mancherebbe, insomma. È bello, guarda, confrontare le varie generazioni di giovani un po' più anziane. E' gente un po' più anziana che opera sul mercato, almeno ci scambiamo qualche idea. Scherzi a parte, sai che comunque con Pietro scherziamo sempre. È stata una settimana importante, il mood degli investitori comunque si conferma sempre positivo e rialzista, Giacomo. Poi vediamo se Pietro vuole integrare o comunque vuole aggiungere qualcosa alle nostre analisi. I volumi in termini di turnover sul SEDEX sono sempre sostenuti, Giacomo. Abbiamo un volume medio che si attesta intorno agli 84 milioni di euro di turnover. E questo volume, insomma, così in crescita o comunque così elevato è dettato principalmente dalla presenza o dall'incremento di quelle che sono le negoziazioni sugli strumenti a leva. Sia covered warrant, molto molto utilizzati in questi periodi in cui la volatilità fondamentalmente è tornata a farla padrona, sia strumenti a leva fissa che leva variabile. Al fianco di questi, Giacomo, noi lo ricordiamo sempre, c'è comunque una buona fetta di mercato e di investitori che va a scovare quelle che sono le opportunità sugli strumenti di investimento al fine o di creare una rendita di portafoglio, quindi eventualmente switchare quelli che sono i prodotti che non hanno più rendimento nei loro portafogli in certificati che possono offrire delle rendite costanti, oppure che abbiano come obiettivo quello di andare a compensare, quindi recuperare le minusvalenze in scadenza che appunto scadranno a breve nell'arco di un paio di mesi al massimo. Quindi un interesse sempre molto intenso su tutti i fronti. Pietro, un minuto, se vuoi anche 90 secondi per integrare, se vuoi la tavola che ci ha apparecchiato Riccardo. Sì, guarda, in due battute proprio. È un momento storico perché c'è euforia sui mercati, nonostante poi ci siano diversi elementi che turbano gli investitori dall'inflazione al tapering al Covid che ha una certa recluescenza nella parte est dell'Europa e anche in Cina per certi versi, abbiamo una situazione per grande. Insomma, nonostante questo si sale. Si sale perché le trimestri americane sono state incoraggianti e quindi il mercato si è spinto su livelli top. Il tema però, tornando ai certificati, è questo, che la volatilità nonostante i massimi è tendenzialmente in contrazione. E quindi tipicamente in questa fase è un po' complesso trovare delle opportunità, diciamo, generali. Il segreto, secondo me, è trovare opportunità sui singoli temi. Quindi temi che esplodono nella volatilità, è proprio l'oggetto poi magari delle nostre analisi, potrebbe essere questo, cioè i titoli più al centro dell'interesse del mercato, i temi più al centro dell'interesse del mercato, dove c'è grande volatilità e quindi si riescono a comprare le opzioni a prezzo più basse, e quindi delle strutture di certificati più interessanti. Quindi fase, fra l'altro, interessante per chiudere perché mancano 60 giorni circa alla fine dell'anno, poco più, e questo è un tema interessante perché ricordo che i certificati hanno un'efficienza fiscale oggettiva e quindi per chi ha minusvalenze in scadenza, quindi vado a dare un'occhiata allo zainetto fiscale, se ci sono minusvalenze che stanno 2017, quindi scadenza tra 60 giorni, è bene che sia da fare. Tornando diciamo a un paragone calcistico, è come se tu stai perdendo la partita a 10 minuti alla fine puoi avere due atteggiamenti, quello remissivo che dice vabbè, lasciamo perdere, è persa, invece quello proattivo che dice possiamo andare a supplementare, immaginando una partita magari di Coppa o dell'Italia, e per andare a supplementare che vuol dire? Vuol dire prendersi 4 anni di tempo aggiuntivi per recuperare le minusvalenze e quindi attraverso acquisti maxi cedola sostanzialmente spostare di 4 anni il problema anziché rischiare di perdere le minusvalenze. Quindi in momento decisivo per chi ha questo problema di minusvalenze 2017, si deve a mio modo di vedere tirare sulle maniche e darsi da fare perché sarebbe un peccato perdere le minus in maniera diciamo definitiva. E allora andiamo a vedere a questo punto i certificati della settimana e ricordiamo anche che poi Riccardo Falconino sarà con noi per la tavola rotonda sui certificati con Manuela Donghi. Quando è? Venerdì? Correggimi se sbaglio. Venerdì, venerdì dalle 11 alle 12. Ecco, dato che poi arrivano già delle domande, insomma potrete sicuramente mandarle in occasione di questo appuntamento che vi ha ricordato Riccardo, sigla per i certificati della settimana. Un saluto anche ad Alberto che ci ha scritto anche io, insomma, negli anni 2000, o nella metà degli anni 2000 ho iniziato ad operare, ricordo quel periodo come se fosse ieri. Allora Riccardo, partiamo dal Cash Call World of Quanto Autocallable? Sì, assolutamente sì, guarda, hai detto il nome, sei partito dal nome che è abbastanza complesso, ma non è tale, il prodotto non è tale. Intanto ringrazio anche Pietro perché mi ha fatto un bel assist per introdurre questo prodotto. Allora, andiamo ad elencare le caratteristiche, poi vediamo come poterlo utilizzare. Partiamo da Lysin, scusami. Partiamo da Lysin. Benissimo, eccolo, è un Cash Collect, quindi come tutti i Cash Collect, Giacomo paga delle cedole. Worst off in quanto è scritto su un paniere, autocallable perché l'emittente in determinate date di osservazione può ritirare, se si verificano delle condizioni, che poi andremo a verificare successivamente, può ritirare in anticipo il prodotto rispetto alla scadenza originaria. Perché è un worst off? Perché è scritto su un paniere di titoli. In questo caso i panini di titoli sono Orange, Telecom e Vodafone, quindi tutti appartenenti al settore delle telecomunicazioni. Intanto diamo un elemento interessante, si acquista 97,45, quindi sotto la parità, è un prodotto che è stato emesso di recente, in un periodo relativamente recente, luglio 2021, scade a maggio 2024, quindi la vita del prodotto in sé per sé termina a maggio 2024. È un prodotto comunque che è negoziabile sul mercato Sedex, quindi il cliente può vendere il certificato in qualsiasi momento, lui abbia necessità di liquidare le posizioni o comunque la sua strategia sia arrivata appunto a compimento. Come funziona questo prodotto? Perché è interessante in questo momento? Il prodotto è stato studiato in quanto, con questa finalità, con la finalità di pagare una maxi cedola, un maxi coupon iniziale, del valore di 10 euro, quindi staccherà un 10% ogni 100 euro investiti. Ricordiamo che il nominale appunto in questo caso è di 100 euro. Che cosa succederà successivamente? Una volta staccata appunto la prima cedola, ricordiamo in questo caso le cedole sono delle cedole condizionate rispetto alla barriera, una barriera posta al 70% del livello di fixing iniziale. Quindi se tutti i sottostanti alla data di osservazione saranno al di sopra del livello barriera, in questo caso il certificato pagherà la cedola. Nel caso contrario la cedola non sarà pagata e il certificato non gode dell'effetto memoria, quindi questo è importante da ricordare. Giunti alla prima data di osservazione che è novembre 2021, se i sottostanti sono al di sopra del livello barriera il certificato pagherà la cedola, il valore di mercato si verrà decurtato di quello che è il valore della cedola, largo circa di 10 euro, poi dipenderà ovviamente anche dall'andamento dei titoli sottostanti e in questo caso il cliente, come diceva giustamente Pietro in precedenza quando parlava di questi prodotti, avrà due possibilità. Possibilità uno, incassa la cedola di 10 euro e vende il certificato, in questo modo protrarrà in avanti di 4 anni quelle che sono le minusvalenze in portafoglio. Possibilità due invece, il cliente non è interessato alla vendita del certificato ma lo tiene in portafoglio in portafoglio, aspettando i trimestri successivi ed eventualmente cercando di incassare anche le cedole dei trimestri successivi. Questo infatti è un prodotto, Giacomo, che pagherà dopo la prima cedola, pagherà un coupon trimestrale di 1,45 euro, anche in questo caso sono cedole che non godono dell'effetto memoria e sono cedole condizionate, quindi vuol dire che saranno pagate solo a condizione, sono condizioni in cui tutti i sottostanti saranno al di sopra del livello barriera. Altra cosa che dicevo prima, altra nota che dicevo prima, è la possibilità di autocall anticipato, cioè l'emittente in questo caso ha definito un'opzione per questo strumento che permette allo stesso di essere richiamato in anticipo. Noi vediamo che appunto dalla schermata principale la vita ultima, quindi il termine della vita del prodotto è maggio 2024, ma ogni tre mesi, quindi ogni trimestre, a partire da febbraio 2022, se tutti i sottostanti saranno al di sopra del loro valore di fixing iniziale, il certificato potrà essere richiamato dall'emittente al valore nominale, quindi a 100 e oltre pagare 100, pagherà anche il coupon del mese in corso, quindi pagherà 100 più 1,45, quindi 101,45. E abbiamo spiegato un po' in generale come funziona il prodotto e quale può essere le finalità e le potenzialità di utilizzo all'interno di un portafoglio. Caro Pietro, intanto ricordiamo che il rischio di questo prodotto è, se non ho visto male, 5 su 7, esatto, caro Pietro un brevissimo commento su questo certificato e poi ne guardiamo anche uno che insomma arriva dalle tue, insomma di analisi, prego. Guarda, il discorso è questo, se il movente è un efficientamento fiscale, quindi quello che dicevamo prima, evitare di perdere i minus in scadenza e quindi sostanzialmente se ci pensi inibirsi l'opportunità di lavorare free tax, quindi inibirsi l'opportunità di lavorare senza il 26% di capital gain che chiaramente andessi a pagare se non hai la situazione di minus in portafoglio, la cosa secondo me importante da dire è che non tutti gli intermediari hanno la medesima modalità di calcolo delle plusvalenze, quindi dei premi, dei maxi cedola derivanti dai certificati, quindi se il movente è quello consiglio a chi ci ascolta di verificare prima col proprio intermediario in che modo contabilizza fiscalmente i premi dai certificati, perché ti anticipo che ci sono due modi, il primo che quando tu incassi il premio vai a interrogare lo zanetto fiscale, se è carico chiaramente lo scarica del profitto maturato e il secondo invece che è un po' meno vantaggioso è quello di caricare il ratio sul prezzo medio di acquisto e quindi sostanzialmente riesce a fare questo efficientamento fiscale, quindi in conclusione se il movente è l'efficientamento fiscale e quindi incassare subito un premio per decurtare le minus del 2017 consiglio di chiedere prima l'intermediario in modalità con le quali fa questa operazione. E consigli caro Pietro, correggimi se sbaglio, anche un top bonus su Leonardo? Sì, diciamo avevi in mente due prodotti da proporvi oggi, uno dei due è un top bonus su Leonardo che è una struttura abbastanza semplice, possiamo iniziare insomma con un prodotto che non ha particolari criticità, perché? Perché è sostanzialmente un prodotto che scommette, diciamo immagino uno scenario nel quale Leonardo dopo un periodo di difficoltà seguito alla vicenda che tutti noi insomma un po' ricordiamo della disputa con Boeing, circa un pezzo difettoso che in qualche modo ha portato della grande volatilità sul titolo, di fatto il titolo non sta beneficiando del clima positivo che c'è a Piazza Affari e su livelli piuttosto bassi e viene da una certa difficoltà. Allora qui il tema è questo, anziché andare direttamente sul sottostante e quindi magari su Leonardo e seguire poi una logica binaria, se sale si guadagna, se scende si perde, si può trovare una via di mezzo con questo prodotto che sostanzialmente ha una scadenza 16 dicembre 2022 e presenta la seguente peculiarità, una barriera 4,48 che va inquadrata, che va immaginata a scadenza perché è una barriera di tipo continuo e quindi anche qualora fosse rotta in corso d'opera non si perde la protezione. Quindi in sintesi questo prodotto che cosa ti consente di fare? Se è uno scenario rialzista, laterale ma anche moderatamente ribassista su Leonardo, lo si può comprare a questi livelli avendo la garanzia che una barriera comunque distante oltre il 31% ti dà, nel senso che sei abbastanza sereno, che la barriera è lontana, è discreta e quindi non continua e rendimento atteso direi è interessante, non che ti cambia la vita, ma insomma un 5,98% è un rendimento su cui un buon numero di persone ci metterebbe la firma e quindi tutto qua. L'idea è di un recupero di Leonardo, ma anche qualora non ci fosse, se non ci fosse un tracollo superiore al 30% si incassa un 6%. Con il Laisin che non abbiamo ancora letto, chiedo scusa, eccoci qua, Domodossola, Empoli, 000 H di Hotel, V di Verona, 4 J di Juventus, ai noi caro Pietro, Q di Quadro, Z di Zara, 1 e con l'indicatore di rischio 6 su un massimo di 7 punti. Questo per quanto riguarda l'offerta insomma che ci propone Pietro, caro Riccardo se vuoi aggiungere qualcosa puoi farlo tranquillamente, altrimenti passiamo al secondo tuo certificato. No, aggiungo solo questo, è un prodotto interessante in quanto presenta una barriera che viene osservata esclusivamente a scadenza, quindi va a eliminare quello che è il rischio dell'osservazione è una barriera in continuo e fondamentalmente è vero che i mercati, è vero che comunque abbiamo un trend positivo e una view positiva, però non sappiamo mai che cosa può succedere, quindi una barriera osservata esclusivamente a scadenza che distante 31% rispetto ai livelli attuali rende il prodotto sicuramente interessante, quindi aggiungevo questo e quindi dico che è un bel prodotto, è davvero un bel prodotto. Lo è anche il Turbo Open End su Eurostoxx che stai per, diciamo così, presentarci? Vediamo, poi vediamo soprattutto che ne pensa Pietro, perché Pietro con i prodotti di trading è un po' avverso, ne parla e non ne parla, esatto, è un po' sul chi va là, allora Turbo Open End su Eurostoxx, su indice Eurostoxx 50, codice ISIN DE000HV4K818, allora come funziona? Andiamo un po' una spiegazione o una razio su questo prodotto, Giacomo, questo a differenza dei prodotti presentati fino ad ora è un prodotto prettamente più speculativo o da trader, i prodotti presentati fino ad ora, quindi sia quello mio, il Cash Collect, quello di Pietro, il Turbo, scusami il Top Bonus, erano dei prodotti di investimento che possono essere utilizzati anche in maniera più dinamica, ma nascono come prodotti di investimento. Questo Turbo Open End invece è classificato all'interno dei prodotti di trading, in quanto va ad amplificare quella che è la performance del sottostante con un effetto leva, quindi da chi viene utilizzato il prodotto? Viene utilizzato fondamentalmente da chi ha una view chiara e rialzista sul sottostante e vuole andare ad amplificare quella che è la performance del sottostante con una leva, una leva in questo caso che è una leva variabile, in quanto i Turbo Open End sono caratterizzati da una leva variabile che ad oggi si attesta a 6,92 volte e lo vediamo scritto nella parte in basso della paginetta. Una distanza da barriera già come dal 14%, quindi un livello discretamente accettabile anche per delle posizioni che vogliono essere mantenuti in multi-day, infatti i Turbo Open End sono dei prodotti consigliabili o utilizzabili per quelle posizioni un po' più aggressive in ottica non intra-day ma multi-day, proprio perché non risentono di quello che è l'effetto compounding che è tipico degli ETF ed è tipico anche dei prodotti a leva fissa. Come funziona il prodotto? Come funziona appunto questo strumento? Questo strumento che prevede alla creazione la definizione di un livello strike che è posto ad oggi a 3.616 punti che va a definire un vero e proprio stop loss, raggiunto il quale la posizione viene chiusa in perdita e si perde quello che è il capitale investito, ricordiamo solo e esclusivamente il capitale investito. Dal momento in cui però Giacomo questo è un prodotto a leva e dal momento in cui l'emittente finanzia buona parte di quello che è il valore dello strumento viene pagato, viene calcolato un tasso di interesse annuo, in questo caso il costo del finanziamento è del 3,44% circa, il quale costo del finanziamento andrà ad impattare quello che è il valore dello strike o stop loss che oggi è impostato a 3.616 punti, virgola 32 ma domani sarà leggermente superiore, infatti come impatta il costo del finanziamento va ad incrementare quello che è il valore dello stop loss o dello strike di giorno in giorno per quello che è appunto il valore giornaliero dello stesso stop. Quindi prodotto interessante per chi ha una view rialzista forte sullo strumento e soprattutto per chi vuole andare ad amplificare quello che è il valore dell'investimento. Se vedi o comunque come possiamo notare il prezzo di emissione dello strumento, il prezzo di vendita iniziale era di 0,84€, ad oggi il turbo è arrivato a quotare 6,12€. Insomma questo va ad alineare quello che è il fattore che va ad amplificare la performance del sottostante, insomma quindi un vero e proprio prodotto di trading. Mica per niente il livello di rischio è 7 punti su 7 come già spiegava Riccardo, è questo che diciamo così ti mette sul chi va là caro Pietro? Ma no, il discorso è questo, sai quando parli di turbo entriamo proprio in un mondo diverso che è la speculazione pura, operazioni di breve termine che per carità ci stanno, però devo dire la verità a me piace più la parte investimenti certificati perché sono strutture quindi forse un po' più complesse dove insomma riesci anche a avere dei benefici non dalla direzionalità, lì il tema è che devi indovinare fra virgolette la direzionalità e se lo fai valorizzi l'intuizione con una leva, quindi ci sta però chiaramente uno deve padroneggiare la leva, sai a proposito di età sui mercati ho visto troppe persone che si sono innamorate di leve spregiudicate e poi alla fine sono andate in difficoltà, quindi diciamo visto anche i miei trascorsi di molti anni di mercati sono un po' diciamo morigerato vista anche l'età. E allora Pietro ti concedo l'ultimo prodotto, siamo quasi in chiusura ma un paio di minuti riusciamo a rubarli al palinsesto, Cash Caller Worst of Quanto su un ampio paniere. Sì, DE000HB03 Roma Bologna 4 e l'ISIN così da casa ci possono seguire, guarda questo per me è proprio quello che dicevo prima, un prodotto un po' più complesso che però intercetta magari le esigenze di investimento soprattutto di chi ama avere una rendita periodica, qui il tema è questo Giacomo, c'è un sacco di gente che dall'investimento anche in virtù di quello che è successo negli ultimi due anni vuole anche un rendimento periodico che magari ti consente di integrare il reddito, di pagare parte del mutuo e quant'altro, quindi ami un investimento di denaro che produce altro denaro, questo prodotto che cosa fa? Ti dà una ciotolina mensile incondizionata, quindi succeda quel che succeda ai tre titoli sottostanti che sono CureVac, Moderna e Novavax, succeda quel che succeda, prendi l'1.4 di rendimento mensile e se ci pensi l'1.4 mensile è un bel rendimento, pensa chi magari mette, faccio un numero a caso, 100k, 100.000 euro si trova 1.400 euro accreditati ogni mese al pari di quello che potrebbe essere la locazione di un immobile, pensa quanto un immobile quanto deve valere per rendere 1.400 euro al mese, sicuramente molto più di 100.000, quindi questo è il tema, quindi prodotto ok per chi ha questa esigenza, prodotto che mi piace, tra l'altro ho fatto un lungo approfondimento visto che siamo un po' lunghi per chi vuole poi esplodere in maniera più puntuale il concetto, anche sul blog di Unicredit sul quale contribuisco molto modestamente a fare degli articoli, ho proprio approfondito questo prodotto, il tema qual è proprio in due parole, Novavax è stato interessato settimana scorsa da un violento se lo offre, il titolo ha perso quasi il 20% nelle ultime 5 sedute, qui c'è una vicenda legata ai vaccini della quale non vi tedio, però in sostanza la classica esposione volatilità che porta uno scenario abbastanza a rendersi più complesso. Qual è la complessità di questo prodotto? Che viene anche fotografata se ci pensi dal prezzo a cui batte adesso, è piuttosto inconsueto vedere un fixer cash collect messo recentemente che quota un prezzo così basso, adesso considera siamo 83, 35 in denaro e 85 in lettere. Qual è il tema? Che Novavax è andato sotto al suo livello di barriera, che di per sé non è una buona notizia, però il tema qual è? Che essendo il prodotto, avendo il prodotto con una scadenza nel 17 ottobre 2024, abbiamo tre anni di tempo più o meno per immaginare che questo sell off venga recuperato. Quindi il peggiore dei tre in questo momento è Novavax, se si pensa che possa poi nel tempo, ci sono tre anni di tempo recuperare, è un prodotto interessante. Perché? Perché nel frattempo, visto che la cedola è incondizionata, anche se i tre titoli perdono il 70%, comunque tu la cedolina dell'1,4% mensile della porta a casa. E se ci pensi parliamo di 35 premi dell'1,4% mensile che ti consentono, anche se poi hai uno scenario negativo a scadenza, comunque di incassare quasi un 50% di rendimenti in corso d'opera, che insomma è una cosa certamente interessante, anche ritornando poi al discorso dell'efficienza fiscale, perché ancora una volta i redditi staccati ai premi contribuiscono alla formazione dei redditi diversi e quindi sono compensabili con le minusvalenze. Quindi è un prodotto forse un po' più complesso, ma certamente interessante per chi ha un rendimento periodico. Grazie Pietro, siamo in extra ritardo, quindi Riccardo non lanciamo neanche la sigla, ma cambiamo la strap, gli eventi della settimana telegraficissimo, anche se l'espressione non esiste, per darci un appuntamento dei tanti in settimana. Oggi pomeriggio, 17-18, con gli amici di WebSim, aggiornamento sul portafoglio One Certificate. Perfetto, sei stato meravigliosamente veloce ed efficiente. Grazie a Riccardo Falcolini, Unicredit Investimenti, grazie a Pietro Di Lorenzo Trader per questa nuova puntata di Zoom Certificates. Ci sentiamo presto e buona giornata a voi. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Grazie a voi che ci avete sentito.